Grazie a tutti. Per ripartire con il programma della serata, lo facciamo con un Prestige Fight di Muay Thai sulla distanza di 3 round, valevole per il Road to Thai Fight Roma 2023, categoria 71 kg, arbitra Eric Ekambi. Portiamo sul ring all'angolo blu, 20 incontri disputati, 15 vittorie e 5 sconfitte per lui, già campione europeo semi-pro WMO per il team Vivencio Gym Muay Thai Boxing da Polvica, Clemente Verdicchio. Grazie. 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 Clemente Verdicchio. Contro di lui, all'angolo rosso, 19 incontri disputati, 15 vittorie e 4 sconfitte per lui. E' il campione italiano Feder Combat in carica, categoria 71 kg, per il team colonnese da Roma, The Alien, Alen Iannone. Grazie. Alain de Alien Janone 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.